Il 30 giugno 2015 gli orologi hanno segnato le 23,59 minuti e 60 secondi. Questo fenomeno, detto secondo intercalare o leap second in inglese, è un secondo che viene aggiunto a fine giornata al fine di compensare tra la rotazione terrestre e come noi misuriamo il tempo. Ogni tanto questa variazione diventa tale che è necessario compensare quando viene definita da un gruppo di astronomi. Ma nel nostro mondo, portato avanti da computer, ha delle interessanti implicazioni. Infatti i computer non vanno al genio con l'idea di un minuto composto da 61 secondi. Quello che succede generalmente è che le 23,59 minuti e 59 secondi vengono ripetute due volte. Questo crea comunque la mancanza di un secondo e diverse organizzazioni gestiscono la cosa in maniera differente. La borsa, dove ogni millesimo di secondo conta e può causare la perdita di svariati milioni di dollari, ha chiuso completamente per un'ora a fine di evitare i rischi. Una soluzione interessante è quella applicata da Google, che decide di spargere il secondo exer durante l'intero arco della giornata, aggiungendo un pochettino ogni secondo. In questo modo, certamente, per questa giornata gli orologi non sono più equalmente precisi, ma almeno risolve il problema di un secondo mancante. Il sistema GPS, invece, che dipende unicamente dalla precisione assoluta degli orologi atomici a bordo, il secondo intercalare viene completamente ignorato. La differenza di un millisecondo avrebbe conseguenze catastrofiche sulla precisione. Figuriamoci di un intero secondo. Nel sistema GPS l'orario viene misurato in maniera assoluta, contando i millesimi di secondi trascorsi tra la nota tra il 5 e il 6 gennaio 1980 e oggi. La data è stata definita dalla NASA. In quanto assoluto, a questo sistema non interessa della presenza di anni bisestili o secondi intercalari. Quello sta a noi quando vogliamo convertire da questo modo di misurare il tempo, detto GPS-T, GPS-Time, al nostro classico metodo di giorno, mese e anno. Bene, questo era il mio primo video su YouTube. Mi sono anche dimenticato di filmare una conclusione. Mettetemi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ne volete di più. Fatemi sapere nei commenti se ne volete di più, perché non lo so. Fatemi sapere. E per i fan di John Green e il Vlogbrothers qua fuori, di FTBA.